L'alpignano a Lievi se la vedrà con l'Europa Beving Rossi di Leven, il commento di Omar Cerutti, direttore tecnico bianco-azzurro. Nulla, nel senso che sono tutte da giocare, può sembrare una frase fatta ma non è così, per cui abbiamo la prima in casa, vedremo già di indirizzarla nel verso giusto. Sicuramente se sono lì anche loro come noi ce la giocheremo, quello che si commentava è che sicuramente sulle due partite andate e ritorno probabilmente i valori verranno fuori, quindi noi speriamo che alla fine vengano fuori i nostri, sicuramente l'obiettivo nostro è passare, su questo è inutile nascondersi, perché la verità è di arrivare lì in questa fase che per noi è comunque importante, quindi un bocca al lupo entrambe le squadre, poi vedremo sui campi perché poi sempre il campo dire la verità e quindi un bocca al lupo a tutti.